E buongiorno a tutti e bentornati su CryptoFarm Italia. Oggi andiamo a parlare di Aster, paraceni di Polkadot che stiamo seguendo da inizio d'aprile sul nostro Discord. Andrò a dividere questo video in due parti, in una iniziale dove provo a spiegarvi che cos'è Aster e come operare su Aster e in una seconda parte invece più operativa dove andiamo a vedere i protocolli più importanti e andiamo a recensirli e a vedere se ci sono dei buoni rendimenti e delle buone opportunità. Mi sono iniziato a interessare di Aster verso la metà di marzo circa e ho portato dentro tutti i contenuti che ho trovato e le applicazioni più interessanti. A oggi come tutto il resto dei file il TVL è nettamente diminuito però ci sono delle applicazioni interessanti dove ancora i rendimenti sono più che decenti. Lo scopo di Aster Network come paracena di Polkadot è proprio quello di connettere più di una blockchain quindi il mondo EVM, il mondo Cosmos, anche se in realtà sul mondo Cosmos attualmente non c'è niente e dei futuri L1 che si andranno a sviluppare e a collegare ad Aster con tutto quello che è l'ecosistema di Polkadot e quindi metterla in comunicazione con tutte le altre parachain. Infatti come sapete nell'ecosistema di Polkadot vi sono due grandi categorie, quelle delle relay chain e quelle delle parachain. Per quanto riguarda le relay chain si occupa del consenso, della validazione delle transazioni, si occupa dell'interoperabilità fra le varie parachain. Le parachain invece sono blockchain proprietarie che hanno vinto delle aste su Polkadot e in questo caso hanno una propria logica operativa dei propri smart contract e delle proprie applicazioni con i propri team di sviluppo. Asta è posizionata quindi in mezzo fra l'ecosistema di Polkadot e l'ecosistema di altri L1. È una chain scalabile che adotta una tecnologia su Layer 2 che dopo andiamo a vedere e che ha la possibilità di comunicare con tanti altri tipi di blockchain su Layer 1. Per interagire con la blockchain di Astar potete utilizzare normalmente due tipi di wallet, fondamentalmente anche uno solo che sarebbe quello di Metamask. Infatti tutta l'operatività che potete sviluppare sulla blockchain di Astar la fate tranquillamente attraverso Metamask. Come sempre su Chainlist potete scrivere Astar e andare a connettere il wallet con la blockchain. Se invece volete andare a mettere in stake nativi i vostri Astar vi servirà Polkadot.js che potete scaricarlo come estensione o altrimenti proprio come wallet all'interno del vostro PC ed è molto semplice, lo potete connettere eventualmente anche con Ledger. Vi lascerò tutti i link in descrizione quindi potete scaricarvi il wallet, potete scaricarvi direttamente l'estensione. Aggiungete per Chrome o per Firefox, fate Crea Nuovo Account, ovviamente se non ce l'avete, vi segnate le parole, ve le tenete come sempre al sicuro e basta. Questo è tutto quello che dovete fare. Le transazioni su Astar costano veramente niente, si parla di un millesimo di Astar. Il prezzo di Astar è 0.05 centesimi di dollaro. Quindi con 5 Astar ne avete abbastanza per tutta la vita. Per usare questa blockchain però vi servirà il token di Astar. Il metodo più semplice è chiederlo a qualche vostro amico se ne dà uno di questi millesimi e poi dopo ve li scambiate voi con le stable che portate direttamente all'interno della chain. Dopo vediamo come altrimenti potete comprarli sui principali checks come Binance, KuCoin, FTX, Gate, EU, Wobby, eccetera, 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 Bybit e abbrigliarli direttamente sul vostro Polkadot.js. Il minimo che potete spostare è 5 Astar. Le fee sono di 2 Astar, quindi 10 centesimi. E andate a inserire su address il vostro indirizzo Polkadot.js. Per vedere qual è il vostro indirizzo andate direttamente sull'Astar Network e andate ad aprire l'app. Scegliete di connettervi alla chain di Astar. Connettete il vostro wallet e vi copiate questo indirizzo che vedete in alto. Su Astar Portal trovate gli asset nella prima sezione e da qui potete spostarli, trasferirli, farci quello che volete, portarli direttamente sulle applicazioni, portarli sul vostro wallet di Metamask e poi renderli disponibili per quanto riguarda le VM. Sulla dashboard vi dà tutte le informazioni riguardo la blockchain di Astar, se vi interessano. E avete direttamente una sezione dove andare a fare lo staking. Allora, lo staking normalmente in questo momento paga il 13,8%, l'inflazione di Astar da messari è circa il 10%. Le applicazioni di Astar fungono direttamente da nodi di validazione e questo proprio perché li aiuta a svilupparsi, cioè le fee che raccolgono vengono utilizzate dal team per sviluppare il loro progetto. Infatti tutte le applicazioni più importanti di Astar sono anche dei nodi validatori. L'unica cosa è che vi servono almeno 500 Astar per aprire una posizione di staking. Per trasferire invece gli Astar che vi serviranno come gas fee per quanto riguarda le VM, quindi tutta l'operatività in DeFi, è molto semplice, c'è proprio il tastino, fate transfer. Sotto destination address andate a inserire il vostro indirizzo Metamask normalmente e VM della chain Astar. Confermate e vi arriveranno gli Astar in pochissimo tempo. Lo stesso discorso vale per DOT, potete fare esattamente la stessa cosa con DOT e successivamente portare DOT su EVM, sulla blockchain di Astar, per renderlo operativo in DeFi. Abbiamo visto come portare gli asset nativi DOT e Astar, ora come portare le stablecoin? Ad oggi la soluzione è molto semplice visto che a livello di costo rendimento è l'unica obiettiva e fattibile che è quella di utilizzare Seller Bridge. Portare da Polygon ad Astar per esempio 5k di dollari vi costerà circa 3 dollari di fee, differente quando vorrete tornare indietro eventualmente da Astar a Polygon. In questo caso i dollari che si prenderà il bridge sono 10. Attualmente su Astar viene portato tramite non ETH solamente USDC. Se invece volete passare da Ethereum avrete più scelte, infatti potete portare USDT, Vrapid ETH, potete portare DAI, potete portare Vrapid BTC, insomma avete più asset da poter briggiare. Astar si basa su Substrate che è un kit, è un framework che permette agli sviluppatori di costruire più facilmente assemblando proprio la propria blockchain. È un po' come Cosmos che permette e facilita la costruzione di varie chain dalla dubbia utilità perché proprio ha un framework già preimpostato dove chi riesce a sviluppare è facilitato a farlo. Due parole in croce su come lavora Astar, lavora attraverso Plasma, che è un modello di scalabilità inventato da tale Joseph Foon e Vitalik Buteyn. Come sempre una frase ad effetto meravigliosa che permette di rendere questa blockchain veloce e molto economica senza sacrificare sicurezza e decentralizzazione, mi raccomando. Questa magia avviene grazie al fatto che vengono eseguite le operazioni come quasi ogni L2 fuori chain e vengono riportato solamente la radice nella convalidazione dei blocchi. Un'altra cosa interessante, lavorando con questa Optimistic Virtual Machine per quanto riguarda Astar e Plasma Network dice che Astar Network non sarà compatibile solamente con le applicazioni che lavorano con Plasma ma saranno compatibili anche tutte le altre applicazioni che lavorano con protocolli di scalabilità layer 2 differenti come può essere Lighting Network, come possono essere ZK Roll Apps, eccetera eccetera. Sulla carta sembra una blockchain straordinaria, cioè interagisce col mondo Polkadot interagisce tramite la relay chain con tutte le paracendi Polkadot può interagire con un sacco di Layer 1 è però un Layer 2 basato su Plasma che riesce a interagire anche con tutti gli altri applicativi che si basano su Layer 2 differenti quindi fondamentalmente è veramente la blockchain più totipotente che esista. Peccato che abbia 80 milioni di TVL. Spero che questa prima parte in caso vi permetterà di approcciarvi se lo desiderate al mondo di Astar e avere gli elementi sufficienti per potervi almeno operare all'inizio nella seconda parte andremo a vedere tutti i protocolli e quindi la parte proprio che più vi interessa e più mi interessa a me io vi ringrazio per aver guardato e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti!